Pantera Pantera, l'ultima scarpa nata in casa d'Innafit. È una scarpa studiata e realizzata appositamente per le gare di ultra trail con un ammortizzamento senza uguali nella sua categoria. Sono molti gli elementi che rendono unica questa scarpa. Tra tutti possiamo ricordare una suola in doppio materiale in eva espanso per dare una perfetta motion guidance alla roulata del piede e per dare un ammortizzamento senza uguali. La parte centrale della mescola utilizzata nella suola è più morbida rispetto alle altre aree. Quindi per non dare la sensazione di fastidio sotto il piede dell'utilizzatore è stato inserito un plate per creare maggiore agilità e quindi prevenire gli infortuni nella parte centrale del piede. Altra caratteristica importante della scarpa è il puntale rinforzato che permette una protezione ottimale con ostacoli riscontrabili lungo il percorso. Abbiamo poi per quanto riguarda la tomaia una cuffia nella parte posteriore che dà rigidità all'assetto posteriore creando un perfetto alloggiamento del tallone ricordando che la forma di questa scarpa è stata realizzata e studiata su una forma anatomica del piede quindi ogni spazio viene perfettamente riempito dal piede dell'utilizzatore. Parlando della tomaia invece riscontriamo un materiale bielastico che permette un perfetto adattamento del piede all'interno della scarpa anche dopo molte ore di corso. Per finire abbiamo dei cavetti inestensibili che collegati al sistema di lacing vanno a prevenire un eventuale allargamento della tomaia dopo molte ore di utilizzo.